Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, preferite Il tallone di ferro di Jack London oppure preferite Mondo nuovo di Axley? E ancora, quale distopia vi inquieta di più? 1984 di Orwell oppure Farhanai 451 di Bradbury o ancora Neuromante di William Gibson? Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, da oggi sul canale YouTube inizia una nuova rubrica che si intitola Distopica. Vi terrò compagnia nei prossimi mesi parlando di romanzi distopici di letteratura distopica, di fumetti distopici e di cinema distopico. Qual è il vostro film distopico preferito? Battle Royale, Matrix, La Notte del Giudizio, Brazil di Terry Gilliam, V for Vendetta, Mad Max o ancora L'esercito delle 12 scimmie, Equilibrium, Il pianeta delle scimmie. La rubrica Distopica affronterà la distopia tra letteratura, cinema e fumetti, una full immersion dentro proprio i mondi alternativi, dentro i mondi distopici, una full immersion all'interno di presagi oscuri, di futuri e luoghi in cui regna l'ingiustizia, la violenza, in cui regna l'autorità, in cui regna la violenza, appunto, in cui il dominio politico, economico, scientifico ha reso gli uomini schiavi o gli ha resi apparentemente liberi, vedremo i mondi che autori, scrittori, registi, che sceneggiatori, che fumettisti hanno ipotizzato, hanno immaginato che cos'è la distopia. La distopia è l'antitesi dell'utopia. L'utopia di Thomas More, di Bacon, di Bacon, di Campanella immaginava mondi, luoghi, luoghi di giustizia e libertà, di assenza di guerra e di religione, immaginava mondi in cui vivere, ipotizzava luoghi in cui vivere felici, luoghi in cui la guerra è stata messa al bando, in cui non c'era più la povertà, l'ingiustizia, in cui non c'erano più guerre di religione, luoghi di armonia, luoghi di felicità, luoghi che magari al lettore potevano non piacere, potevano anzi incutere timore e sospetti. Dunque le utopie delle intenzioni degli autori potevano trasformarsi nelle distopie di lettori, di fruitori. Ma l'utopia sorge come slancio, come sogno. L'uomo è anche un animale utopico che deve sognare, immaginare mondi per poter avvicinarsi a questi mondi. L'uomo è un animale appunto che si proietta con la sua ragione e immaginazione a costruire architetture sociali, politiche, economiche e culturali ipotetiche, immaginare alternative per poter avvicinarsi. Quella è l'idea dell'utopia. L'idea dell'utopia è immaginare mondi, luoghi, tempi, spazi in cui poter vivere felici per avvicinarsi alla realizzazione, per avvicinarsi alla costruzione. Io immagino luoghi, tempi, immagino governi, immagino istituzioni scolastiche, economiche, culturali, immagino città, immagino mondi in cui ci sia la libertà, la giustizia, in cui ci sia un ambiente sano, in cui ci sia armonia, in cui ci siano possibilità di libertà, possibilità di crescita, possibilità appunto di felicità per poter provare a costruire questi mondi, per poter avvicinarmi a questi mondi, per poter dire c'è un orizzonte possibile, un orizzonte di giustizia, di libertà, c'è la possibilità di mettere la barca nel mare, nell'oceano e a raggiungere quest'isola che non c'è, ma per il solo fatto di cercarla noi ci avviciniamo ad essa. Le utopie muomono, le utopie sono figlie dell'amore, sono figlie della follia amorosa, sono figlie dello slancio vitale, sono figlie dell'intraprendenza, del coraggio, della voglia appunto di cambiare. L'utopia rende gli uomini più vivi, le utopie rendono le donne più libere e emancipate, perché? Perché ci si avvicina a quell'orizzonte, si prova a costruire quel mondo con fatica, con i martelli, con il chiodi, con disegni, con ingegneria, con l'architettura, con il pensiero, con la poesia, con la musica, proviamo a costruire mondi alternativi, questo non è l'unico possibile, anzi questo è un mondo di miserie, questo è un mondo di povertà, di ingiustizia e di guerra, allontaniamoci da questo mondo, per quello dobbiamo immaginare altri mondi. L'uomo è dunque un animale utopico, l'uomo nell'utopia ritrova in parte se stesso slancio vitale, ritrova anche un senso al proprio vivere, dunque l'utopia è sempre stata nella letteratura, nel cinema e ovviamente ancora prima nei romanzi uno stimolo intellettuale, con anche molti rischi annessi e connessi, perché c'è la critica tipica dei conservatori, tipica dei moderati, anche dei reazionari, non parliamone, la critica di chi dice ma immaginare altri mondi ti spinge a voler realizzare delle perfezioni che poi ti si ritorcono contro, allora immaginare una nuova Gerusalemme, un'età dell'oro, provare a costruire una nuova Gerusalemme, un'età dell'oro, provare a costruire appunto il socialismo, il comunismo, il cristianesimo in terra, provare a realizzare un mondo di liberi uguali, un mondo di giustizia, un mondo ecologico, un mondo appunto di libertà, provare a far tutto ciò significherà sicuramente andare ad ingabbiare, imbrigliare gli uomini, le donne, costruire appunto dei regimi che poi tolgono libertà, che poi tolgono la giustizia, che poi tolgono la possibilità di essere autenticamente indipendenti, liberi e autonomi, dunque Dio ci scampi da chi vuole realizzare in terra un'utopia perché di sicuro quell'utopia non si realizzerà e se ne realizzerà l'opposto, anziché realizzare un mondo di giustizia, un mondo di giustizia, un mondo di libertà, un mondo di invece schiavitù. Pertanto i critici dell'utopia dicono ogni qualvolta l'uomo cerca di realizzare un'utopia, ogni qualvolta le donne cercano di realizzare un'utopia, ecco che si realizza una parabola rovesciata, cioè si sale per poi cadere, si vuole assedere il cielo ma si cade agli infari, si vuole costruire un paradiso ma si costruisce un inferno, ma l'utopia è una dei grandi filoni, dei grandi filoni filosofici letterari proprio perché? Perché muove l'uomo, stimola l'uomo, nobilita l'uomo, lo trasforma, lo porta fuori dalla miseria. Ebbene, all'utopia si contrapone un altro genere, più letterario e cinematografico che filosofio, che la distopia, cioè un genere letterario, filosofico, artistico, anche pittorico, fumettistico, dunque artistico a 360 gradi, che vuole mettere in guardia gli uomini e le donne, vuole mettere in guardia l'umanità, mettere in guardia da un futuro, da un futuro che può realizzarsi nel breve periodo, avvisare di un rischio che sta per realizzarsi, un rischio incombente, un rischio di mancanza di libertà, di ingiustizia, di guerra, di sprovaricazione. E l'altro volto è l'utopia, attenzione, che quello che sta per realizzarsi sarà la schiavitù, che dietro la tecnologia c'è schiavitù, che dietro questo governo in realtà c'è il dispotismo, che quello che sta arrivando in ambito tecnologico, scientifico, culturale e economico sarà la mancanza di libertà, sarà l'ingiustizia, dunque le distopie, distopie ecologiche. Il mondo sta per precipitare nell'inquinamento, il mondo sta per precipitare in una condizione climatica ed ecologica devastante, tetra, buio, in cui gli uomini saranno ridotti ad essere schiavi, le donne schiavi, i bambini schiavi, che soccomberà l'umanità all'interno di questo futuro ecologicamente disastroso. Ancora, i regimi politici che arriveranno saranno illiberali, sono antidemocratici, toglieranno le libertà, schiacceranno il pallone, ci schiacceranno appunto, ci schiacceranno e ci ridurranno appunto in schiavitù. Oppure, ovviamente, le distopie politiche psicologiche, il potere ti inganna, ti vuole far capire di essere libero, ti fa pensare di essere libero, ma in realtà ti ha reso schiavo, il potere dunque ingannatore, il potere con un velo, vela gli occhi degli uomini, li mantiene schiavi con l'illusione della libertà, li incatena con l'illusione della libertà. Allora ci può essere la distopia del consumo, la distopia dell'intelligenza artificiale, la distopia appunto del potere in pochi uomini che abbiamo già veduto e ahimè subito nel corso del Novecento, la distopia della tecnica, della scienza, la distopia della medicina, il numero della medicina e della tecnica si realizzano governi tecnocratici o medici che in realtà ti tolgono la libertà, ti rendono schiavo. Ovviamente la distopia dell'informatica, dello smartphone, della rete, la distopia degli eserci, la distopia chiaramente dei mentitori, le distopie religiose, le distopie economiche, noi servi del denaro, il tutto è basato, il tutto si basa sul denaro, sulla mercificazione, i sentimenti, le emozioni sono assolutamente negative, vanno controllate. Di tutto questo parleremo in distopica, distopica, una rubrica che vi terrà compagnia ogni 15 giorni. Ogni 15 giorni un film, un libro, un film, un libro e poi ovviamente anche un fumetto. Film, libri, libri, fumetti, film, libri, libri, fumetti per arrivare magari anche alle opere d'arte. Distopica, la nuova rubrica di Barba Sofia, la potete ovviamente guardare, ascoltare, perché la metterò poi anche su podcast, ma la cosa importante è che vi serva per innescare gli ingranaggi della nostra mente, il nostro cervello, perché le distopie e le utopie hanno sempre avuto un obiettivo, far ragionare, provocare, creare mondi alternativi di bene, le utopie, mondi alternativi di male, tempi di bene o tempi di male per portarci a ragionare sul presente. L'utopia e la distopia sono uno specchio attraverso il quale leggere il presente, sono un kaleidoscopio per capire meglio la realtà in cui viviamo e noi ci occuperemo di distopie, ci occuperemo di distopie. Vedremo i classici della letteratura, dal tallone di ferro di London, dicevo prima, dal tallone di ferro di London, passando per mondo nuovo di Huxley, vedremo ovviamente la distopia più celebre mai scritta, quella di Orwell, ragioneremo sulle incidenze nell'attualità, su quante cose che Orwell ha descritto, ha previsto e in realtà sono già realizzate, poi vedremo quella di Bradbury, poi arriveremo a Gibson, ma poi ne vedremo tante altre, arriveremo ad Hunger Games, ma vedremo anche le distopie di Philip Dick, le distopie di Asimov, sarà una rubrica che durerà tantissimo perché ci accompagnerà proprio per mesi e mesi e mesi nell'analisi del nostro mondo attraverso questi mondi ipotetici, questi futuri ipotetici o queste realtà ipotetiche di male. Io leggerò sempre le distopie alla luce del nostro tempo per capire cosa ci possono suggerire, quali strumenti ci possono offrire per decodificare la realtà, perché ricordate sempre che Barbara Sofia ha come obiettivo, come dice, un grande strumento per decodificare la realtà. Di cinema ne parleremo, di film ne vedremo, vi ho detto qualcosa, appunto, il grande film, il grande film appunto di Kiji Fukasaku, Battle Royale vi dicevo, e poi ancora Matrix, e poi ovviamente vedremo In Time, vedremo Gattaca, La notte del giudizio, vedremo appunto V for Vendetta, e vedremo appunto la saga di Mad Max, andremo a vedere il sesso delle 12 scimmie, ci occuperemo appunto di Equilibrium, vedremo la saga del pianeta delle scimmie, dunque esploreremo, esploreremo, esploreremo i mondi delle distopie cinematografiche. Ma per iniziare, la prima puntata di oggi sarà dedicata a Brasil, a Brasil e Terry Gilliam, ma con una veramente sorpresa speciale. Il video su Terry Gilliam, il video su Brasil, lo ha realizzato per me l'amico Mortibianca, dunque dopo questo video caricherò immediatamente la prima puntata di Distopica, questa è l'introduzione, poi vedremo Distopica 1, prima puntata, Brasil, recensito, analizzato da Mortibianca, è una collaborazione che mi piace, io sono già ospite di Mortibianca, abbiamo parlato di Marx, adesso Mortibianca è qua con me, con Brasil, tornerà a parlare con me in una diretta a breve e io tornerò ospite da lui. Io penso che la rete debba essere questa grande, grande opportunità per ragionare, per usare il pensiero critico, per prendere i classi, il cinema, la letteratura, della filosofia, dei fumetti, per poter costruirsi, dico sempre, una cassetta degli attrezzi di libertà. Noi possiamo essere uomini liberi, noi possiamo essere uomini liberi a partire innanzitutto dalla nostra libertà intellettuale e Distopica sarà un altro grande viaggio all'interno della ricerca della libertà, alla ricerca della libertà esercitando il pensiero critico e poi ovviamente Distopica sarà anche, spero, un piacere perché tratteremo di cinema, di letteratura, di grandi scrittori, di grandi registi, di grandi film, di grandi romanzi e cosa c'è di più bello, proprio perché inutile, del leggere film, del leggere libri, del vedere film, del leggere fumetti, del vedere fumetti, nulla. Ancora una volta le cose inutili sono quelle alla fine più belle. Ah, ovviamente ci saranno anche le serie tv, Westworld in modo particolare e poi tante altre. A presto, buona visione con la prima puntata di Distopica Brasil di Morte Bianca, di Terry Gilliam, ma fatto da Morte Bianca.